Breve intro prima di dare il via a questo video, questo video inizierà dall'ora di pranzo perché chi mi segue da tanto tempo sa che io praticamente non cambio mai la mia colazione quindi è sempre la stessa, vi farò un altro video full day of eating dove vi faccio vedere esattamente cosa mangio tutto in un giorno, però quando ho finito questo video sono successe tante cose, ho fatto tante cose che preferisco dare più attenzione a quelle invece che mostrarvi la mia solita colazione con io, l'avena, quello che sapete già quindi iniziamo subito dal pranzo e poi continuiamo con un pomeriggio ricco di emozioni, cioccolatose e di divertimento e di tanti tricks e consigli per la spesa in stile di food marketing e studentessa di food marketing secchiona, che sono secchiona buona visione, ciao ho appena finito di mangiare un piatto o un pranzo delizioso e adesso ve lo racconto e ve lo spiego perché non ho avuto tempo di farlo prima, avevo troppa fame ma l'ho filmato tutto allora, il piatto consiste in dei rotolini di cavolo cappuccio ripieni di un'insalatina di feta e a parte delle patate dolci bianche allora, iniziamo con i rotolini, gli involtini ho preso un cavolo cappuccio ieri al Salunga e l'ho lessato l'ho semplicemente buttato in pentola e lasciato cucinare in acqua bollente per un'oretta rigirandolo perché si doveva cucinare sia sotto che sopra in questo modo, lasciandolo intero, le foglie con delicatezza si separano e si riescono a stendere su un tagliere questo processo ve l'avevo già fatto vedere con il cavolo cinese ma ieri il commesso mi ha consigliato di usare anche il cavolo cappuccio perché il risultato era lo stesso e infatti uguale quindi una volta lessato riesco a staccare le foglie e a stenderle su un tagliere poi, a parte, preparo l'insalatina di feta diciamo che questa è una ricetta molto versatile e potete davvero sbizzarrirvi e scatenare la fantasia io infatti ve l'avevo già fatta vedere con un ripieno di riso e carne e verdure ma potete farlo con qualunque cosa a me andava qualcosa di fresco oggi visto che anche se fine settembre c'è ancora sole e caldo io infatti sono in pantaloncini corti quindi me ne è sempre più godendo e mi godo gli ultimi istanti di estate diciamo comunque avevo voglia di una ricetta fresca quindi ho fatto questo ripieno di insalata di feta fatta con dei pomodorini tagliati mischiati a rucola che ho tagliato per renderla più amalgamabile e feta ho condito con le mie tre spezie preferite comunque abbastanza mediterranee che sono l'origano, il pepe e il peperoncino a fiocchi che questa qua è una bustina che ho preso da Italy l'anno scorso e mi sta durando tantissimo e davvero ve lo consiglio peperoncino a fiocchi penso che siano i semi secchi del peperoncino quindi ve lo consiglio davvero ho mescolato il tutto in una ciotola e poi ho fatto i rotolini praticamente stendo semplicemente la foglia e riempio diciamo che più la foglia rimane integra intera più è facile ma soprattutto bisogna anche un po' prenderci la mano con il metodo di piegamento e avvolgimento i primi vengono sempre male ma alla fine uno o due mi vengono anche bene questa è la parte sfiziosa del piatto infatti se fate degli aperitivi è una cosa molto simpatica da offrire quindi CV può essere utile nel caso facciate aperitivi e poi a parte ho cucinato delle patate dolci queste le avete già viste su Instagram e mi sto bombardando chiedendomi dove le ho prese le ho prese a Lidl a Lidl ha 1,69 euro al chilo e sono patate dolci bianche e secondo me sono molto più buone di quelle rosse l'ho sempre detto però non lesse cioè secondo me le patate dolci lessate perdono tutto il loro gusto e diventano acquose e infatti io le faccio al microonde praticamente prima le lavo poi le bucherello con una forchetta e poi le avvolgo in uno strato di scottex ho avuto una bruttissima esperienza con le patate in forno a microonde e infatti mi è andata a fuoco e mi ha rovinato tutto il forno a microonde quindi adesso quando le faccio a parte starci tipo attenta e guardarlo fisso per quegli 8-10 minuti in cui cuociono ma bagno molto la carta perché forse il problema è stato che si è asciugata e ha preso fuoco non mi richiedete però mi raccomando fate attenzione non bruciate il vostro forno a microonde per causa mia e dopo appunto 8-10 minuti insomma basta sentire quando le senti morbidine e non dure sono cotte le tolgo dalla scottex le taglio e siccome ho notato che queste si asciugano molto diventano molto secche ci aggiungo un filo d'olio come gusto rispecchiano il mio gusto terra cioè quel gusto di castagna, di zucca, di semi di canapa infatti sono buonissime e si possono utilizzare sia in versione dolce che in versione salata ad esempio io qui ci ho messo l'olio ma con una spolverata di cannella e burro di arachidi o di mandorle è la morte loro quindi potete sbizzarrirvi anche su quelle basta questo è il mio pranzo adesso ho finito ho mangiato presto infatti sono di 1.10 ma perché alle 2 devo essere in università perché sarò alla presentazione del business game di l'int l'indor ci sarà un mastro cioccolataio un matte cioccolatie che ci farà assaggiare ci farà vedere il processo di produzione delle pralino o non lo so in realtà comunque del cioccolato e poi ci sarà la presentazione del business game per chi non sapesse cosa sia un business game vi capisco perché penso che lo faccia soltanto la mia università ma comunque è un progetto tra un'azienda in questo caso l'int ma l'anno scorso lo feci sia con adidas che con Ferrero e Carrefour e la mia classe universitaria food marketing è l'unico corso in Italia e quindi ci sono molti rapporti fra aziende soprattutto nell'ambito food e creiamo un progetto diciamo che l'int oggi poi ci spiegheranno avrà un obiettivo e chiederà a noi che ci divideremo in gruppi di sviluppare diversi progetti da poi presentare all'int la quale decreterà dei vincitori e probabilmente poi se davvero apprezza quello che abbiamo fatto e d'accordo allora porterà avanti il nostro progetto questo è quello che è di solito un business game poi dipende da cosa decidono di farci fare e quello che vogliono quindi vi porto con me adesso prendo caffè e andiamo caratteristiche del consumatore in Italia quindi che cosa sta facendo il consumatore di diverso rispetto a prima i consumatori oggi hanno un approccio sempre più consapevole a cibo sono attenti al contenuto del prodotto spesso voletieri guardano alle spalle l'etichetta dei prodotti valutano i prodotti per quello che contengono di conseguenza e soprattutto lo valutano anche talvolta per quella che è una vicinanza quindi la territorialità fa la differenza e questo purtroppo l'int non fa la differenza sebbene abbiamo una produzione in Italia ma non possiamo planizzare il fatto che produciamo in Italia il prodotto un'altra caratteristica è che tanto più è semplice il cibo tanto più è grezzo il cibo tanto più è piacevole questa è un'altra caratteristica che sta cercando il nostro consumatore si è sviluppato nel frattempo quella che è l'epoca dei cosiddetti foodies coloro che diciamo guardando un po' master chef della situazione guardando un po' su tutti i canali televisivi approcciano il cibo in un modo diverso rispetto a quello che erano una volta era semplicemente sostentamento oggi è piacere è piacere che molto spesso deve essere anche condiviso quindi non più il cibo da soli ma il cibo condiviso questa è un'altra caratteristica dei prodotti food tipicamente food allora come dicevo controlliamo tutto il processo partendo dal cacao e dalle fabre di cacao il cacao è suddiviso in tre piante principali il forastero che è la pianta che fa il 90% della produzione mondiale quindi produzione che è praticamente tutta concentrata in Africa è una pianta molto resistente è una pianta che non ha un profilo aromatico molto intenso poi abbiamo il cacao criollo che è una varietà che viene coltivata fermo più in Sud America che è una pianta più delicata ma con un profilo aromatico differente più differente dal forastero non è di consumo ed è quello che usiamo per caratterizzare le nostre tavolette excellence dopodiché c'è un terzo una terza pianta di cacao che è frutto di un incrocio fatto negli anni dal dai coltivatori che è il primitario che è un incrocio tra il forastero e il il criollo e cerca di prendere quanto buono c'è da una parte di una pianta e dell'altra e mettere insieme di una piena degustazione del prodotto e vi deve piegare le capillarità dei singoli prodotti benissimo scoprire un terzo e dopo tutto l'alluminio prima cosa annusata e due quadratini te l'ha messa e dividete a metà avete due quadratini sentite passategli le dite col pastredo sentite come è setoso sentite se è setoso vedete come è lucido passo successivo avvicinate le orecchie due quadratini e fatelo diventare un solo per sentire lo snack sound si sente poco un po' troppo caldo in quest'aula a questo punto avete un quadratino se volete metterlo in bocca a tutto le mette in bocca a tutto se non lo spezzate ulteriormente il consiglio è due o tre emorsi con i molari e poi tenete quello che rimane sulla lingua a contatto col palazzo la faccia fare con quelli indietro se siete degli amanti del vino il concetto è molto simile bisogna degustarlo il cioccolato bisogna capire il temperaggio è un ciclo di raffreddamento che noi facciamo subire alla nostra pasta di cioccolato partiamo però dall'origine noi utilizziamo della pianta del cacao il 50% di polvere di cacao e il 50% di burro di cacao a noi cosa interessa con la fase con il ciclo del temperaggio agire sul burro di cacao che ha una struttura formata da cristalli stabili e cristalli instabili quello che noi vogliamo ottenere è l'eliminazione dei cristalli instabili che hanno una forma irregolare per poi preservare invece cristalli stabili che hanno una forma irregolare che ci consente così di costruire come come un urnetto una struttura solida in modo che i grassi contenuti all'interno del nostro cioccolato non migrano sopra la superficie dei nostri prodotti nel temperatio per cui si parte da una temperatura di 45 gradi io adesso ho già preparato la nostra melting pot ora all'interno c'è il nostro cioccolato è svenuta mezza sale la temperatura è di 45 gradi perché è la temperatura ideale in modo che sopra i 45 gradi il cioccolato si brucia a 45 gradi tutti i cristalli si sciolgono per cui sia cristalli stabili che instabili si sciolgono per il temperaggio a marmo noi usiamo il marmo perché il marmo è un materiale freddo per cui ci consente di raffreddare la pasta 45 gradi tre terzi della ciotola la verso su marmo dopo di che utilizzo una scatola gomito per stendere il cioccolato sull'aria il marmo e un raschiatore per raccogliere la pasta al centro del nano la stendo in questo caso io vado un po' a occhio non uso un termonico lei la raffredda a occhio tendeza la pasta faccio un modo che si tratta in maniera omogenea effettivamente la crudica mi dice che la pasta è circa intorno ai 30 gradi vista cioè proprio l'ha fatta a 30 gradi a questo punto siamo intorno a 15 gradi si vede è palese ma inizia ad attaccarsi a questo punto per farla riscaldare di delta io raccolgo la pasta il cialito sotto e la rimetto della ciotola dove all'interno ho lasciato un terzo della pasta a 45 gradi ed è giusto delta che mi consente di fissare i cristalli stabili all'interno della pasta miscelo le nocciole con la pasta buona buona dai caccia susse nocciole verso il nostro cioccolato e questa è la ciamoletta con le nocciole il temperaggio ci aiuta anche a fare in modo che la pasta di cioccolato prenda tutte le forme che ne desideriamo per cui una volta eliminati i cristalli stabili noi possiamo dare al cioccolato la forma che vogliamo dalle praline alla tavoletta e ci consente anche di mantenere questa forma per il momento in cui noi la stiamo a mangiare io sono appena tornata a casa e devo dire che è stata davvero una bella presentazione per fortuna mi ero portata alla merenda perché tutto quel ben di dio di cioccolato che ci hanno dato ovviamente contiene tutti gli allergeni possibili e immaginabili perché hanno delle fabbriche produttive molto piccole e poche e quindi non riescono a garantire la non cross scontaminazione se non soltanto su alcuni prodotti ad esempio le praline e però lì c'è andato solo barrette quindi nada quindi per fortuna mi sono portata la mia merenda mi sono portata una barretta My Protein al cacao quindi la situazione è stata anche sopportabile perché immersa in quella miriade di cioccolato stavo soffrendo adesso è relativamente presto sono le 5 e mezza quindi per ammazzare un po' il tempo fino alle ore di cena e siccome mi sono già allenata potrei studiare mettere a posto gli appunti ma voglio andare da Italy perché voglio prendere alcune cose che prendo sempre da Italy ad esempio il pesto se c'è la ricotta della Val Trebbia tipica di qua e voglio vedere la frutta e la verdura che hanno perché una cosa particolare di Italy è che spesso verso le 6-7 di sera tendono a vendere i prodotti freschi della giornata in quanto vanno a male se rimangono troppo quindi ogni tanto smerciano e regalano roba e io voglio vedere la zucca quanto la fanno e se è buona perché la zucca più buona che abbia mai mangiato l'ho comprata da Italy e ho deciso che non acquisterò zucca al di fuori da Italy perché lì le vendono e le scelgono e sono davvero ottime quindi preferisco spendere di più sapendo di acquistare qualità piuttosto che buttare via soldi in zucca che non sono buone perché quando la zucca non è buona è triste è davvero molto triste quindi adesso andiamo a vedere se c'è la zucca spese da Italy è stato un successo ho trovato un sacco di cose interessanti e carine due bei melograni che adesso sono di stagione quindi approfittatene perché sono davvero io amo il melograno e sbuccio e conservo in una scatolina in freezer questa se avete voglia in realtà potreste riempirvi di freezer di melograno e consumarlo per tutto l'inverno amo il melograno perché mi ricorda di melograni che mangiavo quando ero in campagna da mio nonno che lui aveva l'albero ho preso questa pasta di pomodoro prodotto bio quindi questa volta non mi potete dire davvero nulla sulla mia spesa qui i ingredienti sono soltanto tomatoes tomato un acquisto interessante è questo burgers di quinoa e pesto di basilico allora si tratta di un di due hamburger senza glutine con verdure fresche solo olio extravergine di oliva senza soia conservanti glutammato e aromi gli ingredienti sono tanti ma sono ottimi sono patate fagiolini acqua farina di legumi quinoa olio erbette olio extravergine di oliva erbette piselli gialli sedano porri cipolle fibre vegetali lievito alimentare basilico sale spezie quindi è totalmente naturale e ottimo ho preso questo con quinoa e pesto di basilico ma ce n'erano altri con il radicchio rosso con la zucca e la curcuma e con la carota ho preso anche il pesto ho preso questo qui che vendono da Italy la formula con l'aglio su questo pesto vi voglio parlare di una cosa che quindi adesso indossiamo i miei occhiali da nerd studentessa di food marketing perché è una cosa che a me cita tantissimo e che voglio dirvi allora al banco del pesto c'erano due pesti per vedere la differenza e valutare il motivo per cui uno costasse di più e uno costasse di meno ho volato gli ingredienti gli ingredienti erano identici stessa formulazione stesse percentuali e stesse scritte allora lì mi si è accesa un attimo la lampadina e mi son detta ma vuoi vedere che qui ci vogliono fregare e allora sono andata a vedere i produttori di questi due pesti volete sapere cosa ho scoperto? sono esattamente lo stesso produttore che produce per due marchi diversi che sfruttano la loro brand loyalty la conoscenza del marchio la loro fama per avere prezzi diversi io alla fine ho preso questo nonostante fosse quello che costava di più ma perché io ho volato il prezzo al chilo uno costava 22 euro al chilo mentre questo 18 ti vogliono un po' fregare perché ti danno quello più costoso in un formato più piccolo che così costa di meno mentre questo che è quello meno costoso in un formato più grande che però costa di più quindi alla fine ti vendevano lo stesso prodotto perché ha gli stessi ingredienti ed è prodotto dallo stesso produttore a due prezzi diversi quindi questo per dirvi di stare attenti ancora una volta di non farvi fregare di non farvi irretire dal cercare sempre il prezzo più basso perché molto spesso sono fregature detto questo altra lezione di food marketing dopo quella di oggi pomeriggio di Lint è un continuo questo canale ormai sta diventando tutti i 10.000 consigli per non farsi fregare delle grandi multinazionali ma mi fa piacere condividere queste mie scoperte quello che studio quello che trovo con voi perché spero che vi possa essere utile detto questo io adesso concluderei qui questo video perché secondo me è già troppo lungo come al solito stasera per cena preparo ciao amore allora stasera per cena preparo del pollo al curry fit che vi ho già fatto vedere un paio di volte sul canale ma faccio il pollo tagliato a cubetti lo cucino con limone e curcuma e poi a parte faccio una salsina di quark mischiato a curry e curcuma e altre spezie mescolo il quark alle spezie e poi quando il pollo è cotto ed è ultimata la cottura tolgo la pentola dal fuoco e aggiungo il quark mi raccomando fate attenzione a non cucinare il quark perché sennò diventa tipo sembra uovo sbattuto insomma non è il massimo come contorno poi faccio della zucca stufata e saltata in padella con dei fili di cavolo cappuccio che è lo stesso di questa mattina ma cerco di utilizzarlo in diversi modi perché insomma non è che posso fare in voltini a vita adesso che l'ho cucinato e non dura tantissimo in frigo e poi come altra parte del piatto ci sarà il mio riso che cucino in big batch quindi una grande scatola che tengo in frigo e utilizzo e consumo a necessità a piacere a godimento insomma un consiglio è condire il pollo al curry con un goccio d'olio perché ammazza tantissimo l'acidità del quark e rende il tutto davvero molto buono quindi filino d'olio e basta io vi ringrazio spero che questo video vi sia piaciuto ciao 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 Grazie.